Musica, danze e brani recitati nel video missione Natale 2021 realizzato dagli studenti dell'Iceo Statale Masce di Chieti nell'incantato scenario del Teatro Maruccino. Sul palcoscenico un ensemble di giovani musicisti della scuola e la colonna sonora di coreografie e di danzatrici, momenti narrativi e di canto curati dagli alunni con l'intento di augurare un Natale sereno e più consapevole fondato su nuove certezze. Le varie performance aderiscono a un filone narrativo riflessivo e per quanto possibile scansonato rispettando le regole imposte dal momento, gli alunni del Masce hanno partecipato al progetto in un numero ridotto manifestando lo spirito entusiastico di tutti i compagni e il desiderio di donare un pezzo di cielo mostrando la bellezza delle loro anime. Abbiamo imparato che nulla vale di più di un Natale insieme perché il Natale è un simbolo, è l'epifania della vita che si rinnova attraverso i legami d'affetto, legami di vita. Il video nasce dall'adesione al piano estate del liceo scientifico teatino teso a restituire una parte di socializzazione ai ragazzi della scuola dopo due anni di pandemia. L'iniziativa coinvolge le classi del bienio e del triennio che negli anni passati hanno costantemente coltivato la tradizione degli auguri alla città con uno spettacolo teatrale in prossimità del Natale, un'interazione che la fase pandemica ora non consente ma gli studenti non hanno voluto rinunciare a inviare il loro messaggio augurale postato sui canali web e social della scuola. Il progetto promosso dal dirigente scolastico Sara Sulipaca è stato attuato con la supervisione artistica dei docenti Barbara Di Paolo e Mauro Cerritelli, l'organizzazione della vice presidente Rosanna Gialloreto e le riprese di Paolo Del Ponte.